A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Alla fine della diretta per gli auguri di Natale e ringraziamenti. Di che cosa parliamo oggi? Delle tipologie di ordini. Tipologie di ordini, modalità di ordini, timing temporale, insomma tutte le varianti che possono caratterizzare l'inserimento di un ordine e anche la sua modalità di esecuzione. Si può declinare chiaramente le tipologie degli ordini secondo varie caratteristiche. Per esempio banalmente il modo in cui viene eseguito o cancellato. Partiamo chiaramente dalle cose semplici e ci sono sicuramente tantissime tipologie di ordini, soprattutto i primi che già conoscete, anche se non li conoscete li utilizzate tutti i giorni ma magari non sapevate nemmeno che si chiamavano in quel modo lì, che vedremo fra poco. E poi invece le ultime sono modalità di ordini particolari e alla fine del video parleremo anche di una tipologia di ordine che è stata un po' mitizzata nel mondo del trading. Si è raccontato tanto su questa tipologia di ordine, soprattutto è una tipologia di ordine legata magari all'operatività di istituzionali o comunque operatori grossi, pesci grossi, ok, di un certo calibro. E quindi insomma nell'eterno scontro fra retail e istituzionali, fra mani forti e piccoli pesciolini come siamo tutti noi, insomma questa tipologia di ordine di cui poi vi parlerò ha avuto veramente tanto successo nelle narrazioni. Bene, cominciamo con le prime tipologie di ordini, sicuramente l'ordine più famoso è l'ordine market, l'ordine at the market, ordine market chiaramente italianizzato noi lo chiamiamo a mercato oppure al meglio. E' semplicemente quella tipologia di ordine in acquisto o in vendita, in buy o in sell, che prevede l'inserimento di un ordine non a un prezzo ben definito, ma al prezzo di mercato. Cioè tu stai dicendo al mercato dammi il prezzo che hai in questo momento, vuoi comprare? Benissimo, avrai un book con uno spread BDASC chiaramente, un ordine di acquisto e un ordine di vendita. Il primissimo ordine dove tu puoi acquistare, il primissimo ordine dove tu puoi vendere, se tu dici al mercato compro market, buy market, ti viene dato il primo ordine possibile al quale puoi comprare. Esecuzione immediata e compri al prezzo di mercato. Chiaramente è un ordine che serve a velocizzare la transazione, se noi vogliamo comprare immediatamente, in maniera veloce, uno strumento, gli stiamo correndo dietro, utilizziamo l'ordine market, chiaramente quali sono le controindicazioni, le possibili controindicazioni, che se stiamo operando su un titolo sottile, su uno strumento sottile, rischiamo magari di avere un'esecuzione in entrato o in uscita da una trade, perché si può anche chiudere una trade con un ordine market, rischiamo di avere un'esecuzione molto diversa dal prezzo che ci aspettavamo, perché chiaramente ci possono essere dei titoli che non hanno tutti i livelli di prezzo occupati, non ci sono su ogni livello di prezzo delle proposte di acquisto o di vendita, magari ci sono dei buchi, il classico titolo sottile, il classico strumento sottile, dove ci sono poche negoziazioni, dove ci sono pochi operatori, retail e non, istituzionali e non, e quindi ci sono dei buchi di prezzo. E magari al di là dei buchi di prezzo c'è un mega buco inteso come spread fra bid e ask, cioè se normalmente uno strumento si muove, che ne so, di un centesimo alla volta e il prezzo adesso è a 17,60 euro, noi magari non abbiamo proposte di acquisto e proposte di vendita in un buco che è compreso, che ne so, fra 17,45 e 17,86, c'è un mega buco di prezzo di 40 centesimi e quindi se noi vogliamo comprare immediatamente il mercato ci darà il 17,86, se noi vogliamo vendere immediatamente il mercato ci darà il 17,45 insomma, sul numero che ho detto un secondo fa nell'esempio e quindi rischiamo sostanzialmente di avere una pessima esecuzione purtroppo. Andiamo avanti con le tipologie di ordini perché sono veramente tanti, l'altra tipologia sicuramente sono gli ordini limit. Non sto nemmeno a parlare degli ordini condizionati perché l'ordine condizionato è più una categoria generale, vi faccio solo un breve accenno, l'ordine condizionato è quell'ordine che è legato appunto a una particolare condizione, o si verifica quella condizione oppure l'ordine non viene eseguito. Quindi categoria molto generica, molto generale, di cui tra l'altro fa parte anche l'ordine limit. L'ordine limit, limit o limite in italiano, è una tipologia di ordine condizionato perché quando noi utilizziamo un ordine limit stiamo sostanzialmente dicendo al mercato che, per esempio, se vogliamo comprare, vogliamo comprare al prezzo che ti dico io, al prezzo limite, o a prezzi migliori. Tra l'altro quest'ordine viene anche chiamato better order, perché praticamente tu vuoi comprare al prezzo che gli dici o a prezzi migliori. Solitamente è tra l'altro la tipologia di ordine in assoluto forse più utilizzato. E che cosa facciamo? Il nostro titolo si trova per esempio a 17,60, però noi non vogliamo comprarlo a 17,60, vogliamo aspettare una piccola discesa del mercato, qualche centesimo magari di discesa e di ribasso, per strappare un prezzo più basso, per comprare un prezzo diciamo più conveniente, no? Se pago meno, chiaramente avrò un prezzo più vantaggioso, anche nella gestione della trade, dell'operazione stessa. E quindi magari noi mettiamo sul mercato un ordine buy limit, acquisto limite, a 17,55. Se il mercato scende da 17,60 a 17,55, chiaramente verremo eseguiti. Altrimenti, se non scende fino a 17,55, il nostro ordine non verrà eseguito. Poi dipende dal timing dell'ordine, lo vediamo dopo nelle successive tipologie, potrebbe succedere che alla fine della giornata operativa, la chiusura dello strumento di interesse che stiamo trattando, quell'ordine venga cancellato, se non ha mai raggiunto il nostro strumento, scusate, se il nostro strumento non ha mai raggiunto il prezzo appunto di 17,55 che volevamo appunto come ordine da eseguire. Molto, molto, molto utilizzato. Andiamo avanti con le tipologie di ordini, qui siamo ancora chiaramente nella... Ah, un'ultima cosa dell'ordine limit, attenzione. Se per caso l'ordine è valido anche per il giorno dopo, e per esempio, rimaniamo nell'esempio di prima, il mercato era a 17,60, chiude a 17,60, noi abbiamo un ordine limit a 17,55. Attenzione. Il giorno dopo il mercato apre da 17,60 che aveva chiuso, apre a 17,53, quindi più basso del nostro limite, e il nostro ordine è ancora attivo, è ancora valido, non è stato cancellato, noi possiamo essere eseguiti, no, non possiamo, noi veniamo eseguiti a 17,53. Perché, come vi dicevo prima, Better Order viene anche chiamato, il mercato apre a un prezzo uguale o migliore di quello che noi gli abbiamo indicato come limite. 17,53 è migliore di 17,55. E quindi il mercato cosa dice? Ah, caro Nicola, volevi comprare a 17,55 questo strumento, mille azioni di Unicredit? Benissimo, ha aperto il mercato a 17,53, sarai contento di comprare due centesimi più basso di quello che volevi, e io ti do le azioni, ti do le mille azioni eseguite a 17,53. Quindi attenzione perché, chiaramente è una cosa ancora più conveniente, però è ovvio che se noi veniamo eseguiti, perché il mercato aperto in gap down, quindi con un buco al ribasso, con un salto di prezzo al ribasso rispetto a quanto aveva chiuso il giorno prima, evidentemente c'è una certa forza, c'è una certa pressione al ribasso, e quindi poi magari rischiamo di, sì, eseguire un prezzo ancora più conveniente, però di essere contrari al trend in atto, contrari alla forza che c'è sul mercato in quel momento. Andiamo avanti con le tipologie di ordini, anche qua, categoria famosissima, gli ordini stop. Gli ordini stop sono ordini che vengono utilizzati soprattutto, appunto lo dice la parola stesso, stop order per l'inserimento di uno stop loss. Chiaramente noi abbiamo una posizione aperta, continuiamo con il nostro esempio, a 17,60 come prezzo di carico, che siamo riusciti a eseguire, e quindi facciamo finta che siamo già dentro la posizione, ma anche no, ma anche no, non per forza, e noi praticamente andiamo a mettere un ordine, un ordine stop a 17,40. Cioè stiamo semplicemente dicendo al mercato, guarda che se il mercato scende e arriva a 17,40, per favore vendi, chiudimi la posizione, e mi piglio lo stop loss, ok? Quindi è un po' il contrario del limit l'ordine stop, no? Perché noi un ordine di acquisto limit, limite, siamo a 17,60, solitamente lo mettiamo più in basso per comprare, quindi se scende a un certo prezzo più basso di quello attuale, voglio comprare, voglio entrare in posizione, tra l'altro parentesi, le piattaforme spesso non te lo fanno nemmeno mettere, no? Un ordine limit a un prezzo, un buy limit a un prezzo più alto di quello del mercato, di solito si mette più basso, e l'ordine stop invece è una vendita che metti più in basso, cioè hai comprato un certo titolo a 17,60, se però scende a 17,40, mio caro mercato, guarda, non sono disposto a perdere di più, a rischiare di più, a 17,40 vendi pure la mia posizione, e chiudimi, e vendimi la mia posizione, quindi chiudimi in perdita, e mi piglio, e mi piglio il mio, il mio stop loss, e quindi solitamente è un ordine che semplicemente viene utilizzato come protezione, no? Come copertura di una posizione. Se siamo long, a prezzi più bassi, ci sarà il nostro stop order, il nostro ordine di stop, loss, in questo caso, e se siamo invece viceversa short, abbiamo una posizione a ribasso, a prezzi più alti, ci sarà un order, uno stop order, un nostro ordine di stop, e tra l'altro sono ordini che si possono utilizzare, che io utilizzo, anche per lavorare con lo stop in pari, e lavorare con lo stop profit, perché attenzione, magari il mercato è salito talmente tanto, e siamo abbastanza in guadagno, talmente tanto in guadagno, che noi mettiamo uno stop order, a prezzi più bassi di quelli attuali, e però a un prezzo che è superiore, al nostro prezzo di carico, quindi non è che da 17,60 il mercato scende a 17,40, e lo stop order viene utilizzato solo come ordine di chiusura in perdita, e noi possiamo essere arrivati a 18, e diciamo al mercato, guarda se torni indietro a 17,90, vendimi, quindi ho stop order, chiudimi la posizione con un sell, a 17,90, ma chiaramente la posizione viene chiusa, con 30 centesimi di guadagno, ne avevamo 40 in tasca, e noi stiamo dicendo al mercato, guarda che se scende il mio profitto a 30 centesimi, non voglio rischiare di farmi scappare dalle mani, più profitto di quello che avevo, e a 30 centesimi mi chiudi la posizione, quindi lo stop order comunque può essere utilizzato anche, per la gestione delle posizioni, e per lavorare con lo stop profit, a mano a mano che il mercato sale, io alzo sempre di più il mio stop order, che all'inizio magari è un prezzo di perdita, perché nasce come stop loss, poi magari anziché essere a meno 20 centesimi, lo alzo fino a meno zero, poi lo alzo fino a più 10, più 20, più 30, ed è diventato semplicemente, uno stop order profit in profitto, cioè in una zona di profitto, e altre tipologie di ordini, lo sapete cosa sto guardando, quando giro la testa verso sinistra, sto guardando un file di appunti, che pensate, mi porto dietro da quando lavoravo in Banca Letti e Banca Imi, questo in particolare è quello di Banca Letti, quando lavoravo come trader, ho fatto il trader conto proprio e conto terzi, per vari desk, per bond, per derivati, per equity, per forex anche, in Banca Letti e Banca Imi, e avevamo diciamo questo file, che praticamente riassumeva, tutte le tipologie di ordini, che potevano essere utilizzate, e con tutti i nomi anche, che a volte impropriamente, utilizzavamo per esempio in Banca Letti, era un nome interno, l'avevamo chiamato noi così, poi ufficialmente, magari sul mercato in realtà, ha un nome diverso, e allora, la prossima tipologia di ordine, è lo stop limit order, è praticamente uno stop che, è un ordine scusate, che mischia insieme, le caratteristiche, dell'ordine limit, e dell'ordine stop, e praticamente, per esempio, se noi abbiamo l'intenzione, rimaniamo sull'esempio, di un titolo azionario, che vogliamo comprare a un certo prezzo, noi che cosa possiamo fare? Possiamo dire che, siamo a 1,50, e diciamo al mercato, attenzione, compra solo se, un e-credit, arriva a 1,60, questo qui sarebbe, un ordine di ingresso, un ordine stop, ah, tra l'altro non ve ne ho parlato prima, attenzione, e la tipologia di ordine, ecco, su questo non l'ho, non l'ho specificato prima, lo specifico adesso, al di là dello stop loss, lo stop order, quindi torno un attimo indietro, allo stop order, al di là dello stop loss, l'ordine di stop, può essere utilizzato, anche per fare, un acquisto, cioè mi spiego meglio, un buy stop, o un sell stop, non quando abbiamo, una posizione già aperta, e vogliamo metterci, un ordine di protezione, ma può essere utilizzato, anche per entrare a mercato, che cosa vuol dire? Il mercato sale, siamo 1,50, ma noi vogliamo comprare, sulla forza, cioè noi vogliamo comprare, solo se il nostro titolo, da 1,50 sale, e rompe il livello di 1,60, perché noi 1,60, abbiamo una resistenza, molto importante, segnata sul grafico, e siamo convinti, che se tocca 1,60, poi scappa via veloce, verso l'alto, perché aumenta di molto, la forza dei compratori, noi facciamo questo ragionamento, alla base, possiamo utilizzare, l'ordine stop, per andare a, comprare un titolo, non se da 1,60, come l'ordine limit, scende a 1,55, ma al contrario, lo compriamo sulla forza, noi con l'ordine stop, possiamo mettere, un buy stop a 1,60, e comprare quel titolo, se da 1,50 sale, fino a 1,60, a quel punto, a 1,60, il mercato, il mercato, ci comprerà il titolo, al meglio, con un ordine market, solitamente, e qui chiaramente, c'è il rischio, slippage, di cui parlavo, parlavo prima, quando vi parlavo, del rischio, che, se c'è un buco di prezzo, nel book, noi veniamo eseguiti, a prezzi, diciamo, particolarmente svantaggiosi, diversi da quelli, che ci aspettavamo, può succedere anche qua, no? Siamo 1,50, noi mettiamo, un buy stop a 1,60, il titolo sale, 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 arriva 1,60, ma in quel momento, sale con forza, no? Come ci aspettavamo. Ora che, il nostro broker, il nostro intermediario, mette l'ordine di, scusate, il bello della diretta, qua è partita la musica, evidentemente Alexa, Alexa è partita, senza che, qualcuno gli dicesse qualcosa, è il bello della diretta, qua parte la musica, ragazzi, sono in, in Airbnb, ed è partita, ed è partita Alexa, da sola, bellissimo, il bello della diretta, allora, stavamo dicendo, quindi, se da 1,50, io voglio comprare a 1,60, cosa può succedere? Il mercato da 1,50, prende sale, arriva a 1,60, e poi corre via velocemente, lo fa in maniera, talmente tanto veloce, che io non riesco a comprare a 1,60, perché ora che il mio intermediario, ha effettivamente, mandato l'ordine market, di acquisto immediato, sul mercato, il mercato, magari nel frattempo, si è mosso velocemente, ed è arrivato, che ne so, a 1,61, a 1,62, e io vengo eseguito, a 1,61, a 1,62, quindi, abbiamo rischio slippage, un salto di prezzo, anche in questo caso, purtroppo, e come si può, questo perché, attenzione, l'ordine stop, rimane nei server, del nostro intermediario, e non viene mandato a mercato, viene mandato a mercato, nel momento in cui, effettivamente, il mercato raggiunge 1,60, e allora il nostro intermediario, dice al mercato, ok, il mio cliente vuole comprare, ordine market, compra subito, però magari, nel frattempo, il mercato, si è mosso di qualche centesimo, attenzione, perché, potrebbe anche, succedere, che, abbiamo, un vantaggio, in realtà, magari, da 1,60, il mercato, scende a 1,59, nel frattempo, che il nostro ordine, arriva al mercato, noi, veniamo anche eseguiti, a 1,59, vado molto velocemente, perché, il tempo è tiranno, e, abbiamo una montagna, di tipologie di ordini, da, di cui parlare ancora, magari oggi vado lungo, ma è l'ultima puntata, Kimura ce lo concede, e, lo stop limit order, allora, come facciamo a evitare, che, il nostro ordine stop, ci venga eseguito, non a 1,60, ma a 1,62, 63, 64, come vi ho appena spiegato, con lo stop limit order, cioè, voi potete dire al mercato, guarda che, adesso siamo 1,50, voglio essere eseguito, solo se, arriviamo a 1,60, quindi, ordine stop, solo se arriviamo a 1,60, ma, quando arriviamo a 1,60, non mi mandi al mercato, mio caro intermediario, un ordine a mercato, al meglio, ma mi mandi un ordine limit, quindi, voi potete dire, al mercato, se saliamo fino a 1,60, mettimi sul mercato, un ordine di acquisto, limit a 1,60, a 1,59, a 1,58, quindi, solo se il mercato sale a 1,60, quindi, modalità stop order, si attiva un ordine, però, l'ordine che si attiva, non sarà un ordine al meglio, market, automatico, che manda il mio intermediario, ma io, il mio intermediario, gli sto dicendo, no, no, mi metti un ordine limit, io lo utilizzo spesso, questo, al posto di utilizzare, il buy stop normale, quindi, io praticamente, cosa faccio, al mio intermediario, gli dico, guarda, voglio comprare, solo se da qui, da 1,50 saliamo, fino a 1,60, però, per evitare lo slipage, per evitare il salto di prezzo, e, non mi mettere un ordine al meglio, un ordine a mercato, quando siamo arrivati a 1,60, mettimelo limit, mettimelo a 1,60, esattamente a 1,60, e allora, chiaramente, se il mercato, effettivamente, ora che il mio ordine arriva, su book, effettivamente, si trova a 1,60, e posso, comprare a quel prezzo, perché c'è una, c'è un, c'è qualcuno che vende, quindi io, io compro, e, bene, altrimenti, non viene eseguito, è lo stop limit order, attenzione, è un ordine che, chiaramente, può non essere, eseguito, perché, poi, una volta che il nostro ordine, è arrivato al mercato, si deve esattamente verificare, la, la condizione di prezzo, che, che gli abbiamo detto, vi ricordo, velocemente, che questo, questa diretta, è gratuita, grazie a, Kimura Trading, vedete qua, la piattaforma con, di Kimura, con, per esempio, la sterlina a dollaro, sulla quale oggi, sto facendo, una bellissima trade, perché ha fatto, il ritracciamento, che mi aspettavo, e poi ripartita, verso l'alto, e ha già raggiunto, praticamente, il mio target, bella, bella questa, oggi il valutario, mi è andato, particolarmente bene, allora, e, con Kimura, se aprite un conto, con Kimura Trading, eccolo qua, potete aprire una demo, per provare, potete aprire un conto reale, sappiate che, grazie a questa collaborazione, che è durata, per tutto il 2021, se aprite il conto, con Kimura, avete, diritto a, uno, due o tre mesi, gratuiti, del mio canale, One Click Trading, canale di livelli operativi, in abbonamento gratuito, oppure, potete avere uno sconto, sui miei corsi, il corso sul mio protocollo operativo, oppure, il, i corsi in opzioni, che facciamo con Roberto, e, prossimamente, in arrivo, il corso sulle aste immobiliari, con, con Clivio, comunque, poi, se siete interessati, mi scrivete a, Nicola Paratrading, chioccio al gmail.com, mi dite, guarda Nicola, ho aperto il conto con, con Kimura, e io, chiaramente, vi attivo, una delle promozioni, che voi, che voi sceglierete. Bene, 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 torniamo a noi, perché, veramente, Tempus Fugit, cercherò di essere velocissimo. Trailing Stop, classico questo, anche questo, classico, intramontabile del trading. Il Trailing Stop, che cos'è? E' quello, di cui parlavo prima, quando vi parlavo prima, di Stop Profit, sostanzialmente, è una tipologia, di Trailing Stop, no? Io prima vi dicevo, il mercato sale, sempre di più, la mia posizione, è in profitto, e a mano a mano, che sale, io alzo anche, il mio, il mio ordine, di Stop, no? Così, se scende, gli voglio permettere, di scendere, fino a un certo punto, poi chiudo la posizione, e mi porto a casa, al guadagno. Il Trailing Stop, fa questa cosa, in automatico. Cioè, che cosa succede? Voi avete comprato, uno strumento a 16, nel frattempo è salito a 17, e impostate un Trailing Stop, un ordine Stop, che ne so, a, potete sceglierlo voi, 50 centesimi di distanza, dal prezzo attuale. che cosa vuol dire? Siamo a 17? Voi avete un ordine Stop, un Trading Stop, 50 centesimi più in basso. Il mercato sale a 18? Voi avete un ordine di Trailing Stop, uno Stop Order, 50 centesimi più basso, a 17,50, e così via. Tanti intermediari permettono di inserire il Trading Stop, quindi l'ordine Stop, se avete comprato un titolo più basso dei prezzi attuali, chiaramente, e come valore in centesimi, quindi come valore di prezzo, di distanza di prezzo, come quantitativo di TIC, di distanza dal prezzo attuale, o come percentuale anche, alcuni lo fanno anche impostare, impostare e inserire come percentuale di distanza. Chiaramente, quindi voi a mano a mano che uno strumento sale, avete un Trading Stop che si troverà a un quantitativo di centesimi sempre diverso, perché chiaramente l'1% di 100 è 1, l'1% di 200 è 2, quindi quando lo vostro titolo sarà arrivato a 200 e avete un Trading Stop dell'1%, non sarà più a una distanza di un punto, come quando il titolo valeva 100, ma sarà a una distanza di due punti, perché chiaramente in percentuale l'1% di un valore più alto è semplicemente un valore più grosso, un valore più grande. E quindi questo è il Trading Stop. Cosa abbiamo ancora? Lo Stop All. Stop All è molto semplice, avete la vostra finestrella, con tutte le posizioni aperte sul vostro intermediario e cliccate X, cliccate semplicemente la X, avete la riga con tutte le caratteristiche della vostra posizione, di solito in fondo c'è una X, pisate la X e chiudete tutta la posizione. È una tipologia di ordine che permette una chiusura immediata di tutta la posizione che avete aperto al meglio, quindi è una tipologia di ordine market. Vedete che si mischiano le caratteristiche dei vari ordini a mano a mano che diventano diciamo più complessi. Lo Stop All praticamente vi fa chiudere al meglio tutta la size, quindi è un ordine che di solito serve per la chiusura della posizione. Andiamo avanti con A, con gli altri tipologi di ordini, per esempio LOCO, LOCO è un order cancel order, ordine cancella ordine, ok? In inglese order cancel order, scusate la pronuncia, ma non sono di certo un campione di inglese. È la combinazione di due ordini, anche qua è molto semplice. Quando voi avete per esempio una posizione aperta sul mercato e ad un certo punto voi gli volete mettere un ordine di Stop e un ordine di Target. Questo è l'esempio più classico del LOCO, no? Quindi voi avete la vostra posizione aperta a 16 in profitto perché il mercato è a 16,50 e volete mettere un ordine di Stop Loss a 15,50 e un ordine di Target a 18. Sono due tipologie di ordini. Chiaramente mettendoli con LOCO che cosa succede? Li mettete insieme, li mettete in contemporanea e in questo modo se viene raggiunto il Target, il Take Profit, si cancella l'ordine Stop di Stop Loss. Se viene raggiunto a ribasso l'ordine Stop di Stop Loss, si cancella in automatico il Take Profit. Quindi non vi rimangono degli ordini aperti che magari rischiate che possano essere eseguiti sul mercato e avete una pulizia. Una volta che l'operazione è stata chiusa a un Stop in Target, tutti gli altri ordini associati, insomma quella trade, vengono semplicemente cancellati. L'ordine strategy, anche qua è un ordine molto 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 semplice, molto utilizzato. L'ordine strategy è la combinazione di più ordini. Semplicemente che cosa fate? Iniziate una trade e mettete sia un prezzo di ingresso, per esempio by limit, sia un prezzo di Stop più basso del livello limite di entrata e un ordine di Target più alto del livello limite di entrata. Anche questo penso che lo facciate continuamente tutti i giorni quando volete fare sostanzialmente un'operazione, una Trade one click, come la chiamo io, mette l'ingresso, lo Stop e il Target chiudi tutto e la Trade si completerà da sola in un modo o in un altro o magari non si completa perché una volta che è entrato il nostro ordine limit poi non raggiunge nello Stop e nel Target. Allora magari poi intervenite voi in maniera manuale. Ah, poi anche qua, altra categoria di cui parlo velocemente è una categoria legata alle tempistiche, le tempistiche degli ordini, cioè che cosa vuol dire? l'ordine per esempio così chiamato day, ordine day, daily, no, non daily ma day, è l'ordine che vale per la giornata, molto molto semplice, quindi good for the day in inglese, è l'ordine GFD, è semplicemente l'ordine che se non è stato eseguito qualunque tipologia di ordine sia, stop, per entrare stop, per entrare limit, quello che volete. Se non viene eseguito entro la giornata, quando lo strumento finanziario di interesse chiude, quell'ordine viene cancellato dal vostro intermediario finanziario. Tutto qua, molto molto semplice. E poi ci sono per esempio gli ordini good until cancelled, quindi G-U-C, sono ordini che sono validi fino alla cancellazione, quindi l'ordine che voi avete inserito, state dicendo all'intermediario, non deve essere mai cancellato. G-U-C, good until cancelled, solo quando io vado a cancellare il mio ordine, ok? E deve, solo quando io lo vado a cancellare manualmente, deve essere cancellato. Non ci deve essere nessun altro motivo per cui il mio ordine deve venga appunto cancellato. in realtà, quello che non è propriamente corretto, perché quello che è valido fino alla vostra cancellazione manuale, è il G-U-C, good till cancelled, che è quello che effettivamente siete voi a cancellare manualmente, altrimenti rimane sempre valido. Invece il good until cancelled è valido fino alla cancellazione, ma per essere precisi, la sua cancellazione può avvenire anche per una revoca da parte del mercato, perché non avete inserito qualche parametro sbagliato, e magari vi viene respinto, ok? Invece quello che effettivamente viene mandato e o lo cancellate voi, lo cancellate voi, è il G-T-C, good till cancelled. Poi c'è il G-T-T, good till time, è valido fino a un'ora specificata, quindi è semplicemente valido fino alle ore 16, perché voi gli avete detto, questo ordine deve rimanere valido fino alle 16. Attenzione, non tutti gli intermediari vi danno chiaramente la possibilità di inserire delle tipologie di ordini così variegate, così complesse, però il mercato solitamente le accetta. Poi anche qua, bisognerebbe fare la differenza, la distinzione da mercato a mercato, se pensiamo in generale al mercato italiano, delle azioni sono tutti ordini che se non ricordo male, vanno tutti bene, nel senso possono essere tutti quanti utilizzati. Poi c'è il good till date, valido fino a una certa data, anche qua io metto l'ordine, valido fino, che ne so, al 10 di gennaio, e quell'ordine rimarrà valido fino al 10 di gennaio, quindi fino alla data specificata, good till date. Concludiamo, concludiamo con gli ordini fill or kill, tutto o niente, sostanzialmente, l'ho chiamato in mille modi anche questo, è una tipologia di ordine che prevede che se la transazione non può essere totalmente eseguita, se le mille azioni che volete comprare di unicredit non possono essere eseguite tutte quante insieme in un colpo solo, o si esegue tutto quanto insieme in un colpo solo, oppure l'ordine viene semplicemente cancellato, ok? Quindi si cancella l'ordine automaticamente nella sua totalità, o eseguito nella sua totalità, oppure cancellato nella sua totalità. direi che praticamente abbiamo parlato di tutte le tipologie di ordini, manca l'ordine iceberg, vado veloce perché siamo andati lunghi oggi, pure Alexa ci ha fatto lo scherzetto di Natale con l'attivazione della musica, adesso non vorrei citarla che magari all'improvviso riparte da sola senza che nessuno gli dica niente, però voglio concludere con gli ordini iceberg perché sono stati un po' mitizzati, no? Perché sostanzialmente l'ordine iceberg viene spesso associato all'istituzionale che fa una certa manovra sul mercato e non si vuole far vedere. C'è un pizzico di verità, c'è un fondo di verità in questa cosa perché l'ordine iceberg forse più interessante anche di quelli che abbiamo visto è quella tipologia di ordine che viene inserito sul mercato a pezzettini. Io ricordo in Banca Rete e in Banca Imbi quando facevo il conto terzi cioè quando eseguivo gli ordini degli altri degli istituzionali che lavoravano tramite di noi che eseguivano gli ordini a mercato tramite noi ricordo che capitava spesso di dover mandare al mercato un ordine in modalità iceberg che cosa vuol dire? Arriva il nostro cliente istituzionale che vuole comprare una montagna di unicredit dico adesso una cifra a caso un milione di pezzi che non sono nemmeno tanti vuole comprare un milione di pezzi però non possono essere mandati a mercato tutti insieme cioè magari il cliente istituzionale che non vuole mandargli a mercato tutti insieme ma spesso è il mercato che ci obbliga a mandare questo ordine così grosso con la modalità iceberg quindi non è per forza sempre il cliente istituzionale che si vuole nascondere non si vuole far vedere spesso siamo costretti dal mercato noi quando insomma ero un trader conto terzi il trader conto terzi spesso è obbligato dal mercato a mandare a mercato un ordine grosso in modalità iceberg che cosa vuol dire? non mi metti sul book un ordine da un milione di pezzi in un colpo solo perché o crei una montagna insormontabile a quel livello di prezzo non si supera il livello perché c'è una quantità enorme di pezzi che non viene superata e crea un supporto una resistenza imbalicabile oppure magari se è un ordine di un milione di pezzi al meglio spazzoli via all'improvviso una montagna di livelli del book crei volatilità sullo strumento magari finisce in asta di volatilità la volatilità crea ancora altra vuotalità insomma succede un patatrack sul mercato vai a creare una situazione per la quale vai a destabilizzare il mercato e non va assolutamente bene questo si vuole chiaramente evitare quindi ordine iceberg non mi mandi sul mercato un milione di pezzi ma me ne mandi che ne so 50.000 alla volta un ordine da 50.000 quando quei 50.000 pezzi vengono tutti quanti esauriti tutti quanti eseguiti all'improvviso in automatico compare un altro ordine da 50.000 quindi iceberg cosa vuol dire metti sul book metti sul mercato solo la punta dell'iceberg solo 50.000 pezzi alla volta e ogni volta che vengono esauriti ne arrivano altri 50.000 e poi altri 50.000 e poi altri 50.000 è un processo automatico chiaramente che prevede quindi l'arrivo di un pezzetto alla volta quindi 20 volte 50.000 pezzi e alla fine si è arrivato a completare l'ordine da un milione e penso sia abbastanza evidente il perché viene chiamato iceberg perché chiaramente si vede soltanto un 50.000 alla volta si vede solo la punta dell'iceberg quando in realtà il vero ordine vale un milione di pezzi ragazzi e ragazze con questo è tutto io ringrazio di cuore Kimura Trading per averci dato a me e a voi la possibilità di svolgere per tutto il 2021 questo bellissimo corso di trading insieme abbiamo fatto tantissime puntate se consideriamo anche le puntate extra di trading live o altre tematiche penso che ne abbiamo fatte più di 40 veramente bello bellissima opportunità spero che sia stato per voi formativo interessante io ho cercato di dare tutto me stesso e guardate adesso che siamo arrivati alla fine mi sarebbero anche venuti in mente altri argomenti interessanti di cui parlare ma magari lo farò con dei webinar con dei video che organizzerò personalmente comunque ringrazio di cuore Kimura per l'opportunità che ci ha dato ringrazio di cuore voi per avermi e averci seguito per tutto questo 2021 e chiaramente approfitto anche per fare un augurio di buone feste a voi e a chiunque passerà con voi queste festività queste vacanze natalizie approfittiamone per riposarci stacchiamo la batteria non guardiamo i mercati che sono sempre molto molto stressanti stacchiamo la spina totalmente ci resettiamo ricarichiamo le batterie e poi partiamo belli freschi riposati nel 2022 per un nuovo anno insieme sui mercati finanziari di nuovo grazie e tanti auguri da Nicola Paratrading e buone feste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti